ciao ragazzi video velocissime riportate a vedere tutti in carica della settimana nove lei mi raccomando per supportare il canale vediamo subito subito come si fanno sono semplicissimi ce n'è una che ho già fatto quindi non si vede usa le motte a nitrodomo e campo battaglia del bastino ritrovare ecco a battaglia del massimo campo di battaglia del massimo invece è qui in basso a destra e questa è il primo incarico della settimana poi avversari con fucile pesante da combattere che mi sa che vado c'è uno e c'è l'esercizato da combattimento e quello qua questo pompa quindi bisogna semplicemente eliminare cinque avversari si possono richiare anche gli scagnozzi npc non lo so se contano penso di sì anche i boss sopra i miei giocatori possiedendo un medaglione qui bisogna chillare un boss prendere il medaglione e sopravvivere a 30 avversari quindi magari questo pochino più lunga da fare i medaglioni sono uno qua uno qua uno sempre al nitrodromo con il nitrodromo è bloccato infatti vedete il lucchettino gli altri due possono muoversi in questo caso c'è questo qua pozzo che è dove dovrebbe essere invece quello di spiaggia aspettata dovrebbe essere invece qua probabilmente morto di tempesta sprovvivere cerchi la tempesta quindi cerchi anche questa abbastanza semplice la legge di pensare usare un'arma con modo sottocatta qui potete o cercare le armi in questo pompa a un mod sotto sotto canna vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua la la terza mod qui in basso destra non comune è appunto sotto canna oppure cercate un bunker che si apre una certa tempesta mi sembra la terza sono questi questi qui raga e andate a modificare qualsiasi arma volete un modo sotto canna e fate mille di danno agli avversari ci prendiamo qui il corso mi raccomando per supportare canali per il ciclato di sempre attivo ciao